Stabilità delle risorse, coerenza nelle scelte prioritarie di assegnazione e innovazione nella ricerca di nuove opportunità per il territorio sono le parole d'ordine che Franco Bini usa per riassumere i suoi primi 18 mesi alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Innovazione anche come spirito di interpretare la Fondazione, non solo come un interrogatore ma anche un soggetto propositivo nei confronti della città. Tutto ruota attorno all'assenza di dividendi da partecipazioni bancarie all'incertezza assoluta sulle entrate da interessi legati al patrimonio finanziario dell'ente ciò nonostante la Fondazione è riuscita a stabilizzare l'ammontare delle risorse da destinare alla comunità locale a sostegno di progetti per cultura, istruzione e solidarietà 870.000 euro nel 2018, 900.000 nel 2019 e altrettanti per il nuovo anno. Il bando uscirà a febbraio. Il 2019 è stato un anno di novità con la nuova sede a Palazzo Gatti in piazzetta Buonamici e l'inizio della riforma dello statuto che sarà completata nel 2020. Abbiamo già fatto una parziale riforma che ha permesso di inserire nuovi soci. Il nuovo anno vedrà anche la realizzazione di una nuova porta d'ingresso per Prato. Un'opera d'arte contemporanea sarà collocata alla rotonda che si trova subito dopo l'uscita autostradale di Prato Ovest. In modo da ammarcare gli ingressi della città di Prato. Quindi da una parte a Calenzano la ruota del tempo di Caravan, a Prato Ovest il Museo Pecci e quindi un'altra opera di impatto significativo in modo da ammarcare la contemporaneità di questa città che è una città che con tutta la sua complessità è comunque ancora la capitale europea dei tessili abbigliamento.